Pitagora, il filosofo, il matematico e il mistico. Pitagora è stato un filosofo, matematico, scienziato e legislatore greco antico. Vissuto nel VI secolo anno corrente è considerato una delle figure più importanti della storia della filosofia occidentale, e le sue idee hanno avuto un'influenza profonda sul pensiero greco e su quello occidentale in generale. La vita di Pitagora. Le informazioni sulla vita di Pitagora sono scarse e spesso contraddittorie. Si ritiene che sia nato a Samo, in Grecia, intorno al 570 anno corrente, da una famiglia agiata. Da giovane, Pitagora viaggiò in Egitto e in Babilonia, dove studiò matematica, astronomia e religione. Tornato in Grecia, Pitagora si stabilì a Crotone, in Magna Grecia, dove fondò una scuola filosofica che divenne nota come la setta pitagorica. La scuola pitagorica era un'organizzazione segreta che combinava elementi di filosofia, matematica, religione e politica. Le idee di Pitagora. Le idee di Pitagora sono complesse e non sempre facili da comprendere. Una delle sue idee più importanti è che il numero è l'essenza di tutte le cose. Pitagora credeva che il mondo fosse governato da leggi matematiche, e che i numeri fossero alla base di tutte le realtà, sia fisiche che spirituali. Un'altra idea importante di Pitagora è che l'anima è immortale. Pitagora credeva che l'anima fosse un'entità immateriale che trasmigra da un corpo all'altro dopo la morte. Pitagora era anche un sostenitore di una vita semplice e virtuosa. Egli credeva che l'uomo dovesse vivere in armonia con la natura e con gli altri esseri umani. L'eredità di Pitagora. Pitagora è stato una figura fondamentale nella storia della filosofia occidentale. Le sue idee hanno avuto un'influenza profonda su pensatori come Platone, Aristotele e Galileo Galilei. Pitagora è anche considerato il padre della matematica occidentale. Egli è noto per aver dimostrato il teorema di Pitagora, che stabilisce la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo. Il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è una delle più importanti formule matematiche della storia. Essa stabilisce che il quadrato della diagonale di un triangolo rettangolo è uguale alla somma dei quadrati dei suoi due lati. Il teorema di Pitagora è stato utilizzato per secoli in architettura, ingegneria e astronomia. È una formula fondamentale per comprendere la geometria e le sue applicazioni nel mondo reale. Conclusione. Pitagora è una figura complessa e affascinante. Le sue idee hanno avuto un'influenza profonda sul pensiero greco e su quello occidentale in generale. Pitagora è considerato uno dei più grandi filosofi e matematici della storia. E la sua eredità continua a ispirare e a sfidare i pensatori di tutto il mondo.